... Allora come va? Avete fatto un buon Natale? Avete fatto sto buon Natale, bastardi? E'! Questa è l'operazione che i kialer sono avversati loro di oggi e prossimamente da febbraio anche i sabati! Allora... Hasbils on and! No, 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 no. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.